il trefoletto di ritrovo dopo tante settimane sulle onde in bassa frequenza di border radio era un pomeriggio di aprile in cui 1999 il secolo doveva ancora finire il mio amico marco non aveva segnalato che nelle edicole della città era disponibile una rivista con allegato un cd che consentiva a soli 19 mila lire di navigare per un mese su internet si era già sentito parlare della rete non avevo mai provato tenevo in casa un performa 620 un vecchio computer apple che mai più pensavo nonostante la sua porta potesse consentirmi di collegarmi alla rete e per mesi resti alla curiosità poi scesi nell'edicola in piazza castello dove abitavo ormai da cinque anni in un bellissimo appartamento di un palazzo antico che guardava le torri medievali di palazzo madama nel centro storico di torino tornato a casa mi procurai un vecchio modem usato e lo collegai cominciarono alcuni sibili e mi registrai con un account in questo termine ancora sconosciuto ad italia online era un servizio che forniva connettività e dopo una serie di fischi e di sibili aprì il navigatore che si chiamava alta vista e immediatamente dopo la copertina delle montagne nord americane mi si aprì un mondo che oggi è un modo di dire ma veramente la rete a quel tempo era una scoperta incredibile non pensavo mai più che mi sarei fatto trascinare così tanto da una passione costosa in fondo è vero che l'abbonamento con solo 19 mila lire ti consentiva registrandoti con delle password a navigare per un mese ma c'erano anche i costi della connessione telefonica per l'appunto a una velocità di 56 kb era una velocità bassissima quasi 1800 volte meno di una velocità 100 mega che oggi è minimo delle connessioni in fibra ottica ma consentiva di aprire delle pagine lentissimamente che si formavano sullo schermo colori del mio apple in un momento di grandissima emozione e passavo le notti e spendevo soldi le bollette del telefono che funzionavano con la tariffa urbana a tempo ogni sei minuti uno scatto erano di oltre 150 mila lire ogni due mesi per navigare e per navigare in un mondo sconosciuto e per trovarmi a contatto con persone che non conoscevo l'universo quell'anno si era aperto sui balcani rincorso una guerra sanguinosa etnica al di là del mare adriatico e mi ricordo che una notte collegandomi a c6 una chat di virgilio un provider di quel tempo mi collegai con una ragazza che scriveva da sarajevo e mi sembrava di vivere in un altro mondo di poter parlare e sentire raccontare da questa ragazza che viveva in una città dove ogni tanto mancava la corrente e si interrompeva la connessione ma non era la corrente che ci stupiva era il fatto di contattare una persona che in tempo reale rispondeva alle mie domande di curiosità di cosa stava accadendo in quel mondo e in questo tempo antico visto oggi ho intrattenuto tante relazioni tante amicizie ho collegato poi il computer con dei piani telefonici nel tempo uno di essi si chiamava libero sogno e consentiva incredibilmente senza pagare gli scatti del telefono di attivare sull'abbonamento una connessione al costo fisso per navigare tutto il tempo che si voleva si aprivano lentamente le pagine i giornali non davano la disponibilità di connessioni così stabili e così veloci e passavo le notti a distruggermi le diotrie non solo leggendo ma anche divertendomi a indagare su tutto quello che era il sottobosco che non era il dark web di oggi dove in un mondo nascosto si vende violenza armi droga era un mondo di persone come me che collegato dalla mia casa si collegavano dalla loro a qualunque ora della notte e fu un mondo meraviglioso noi pensavamo di avere visto tutto con i telefoni cellulari che furono presentati lo ricorderete dal presidente della repubblica francesco cossiga in occasione dei mondiali di italia 90 i primi telefoni cellulari beh ma non ci interessava in quel momento la reperibilità erano passati pochi anni i cellulari erano ancora parecchi per pochi ma era la scrittura la meraviglia di digitare in tempo reale poter scrivere come una telescrivente come in un film di guerra di spie si poteva contattare agganciare chiunque ci desse retta in quell'universo meraviglioso e oggi è tutto cambiato oggi i satelliti governano i mezzi che si muovono sulle strade del mondo siamo sottoposti alla dittatura del nord america che gestisce la gran parte dei satelliti ma anche della cina del brasile della russia e non ci rendiamo più conto che quando una pagina si apre istantaneamente ricca di foto e di immagini ossia ascoltiamo musica gratis facendolo una velocità così alta non ci restituisce il senso della soddisfazione di avere apprezzato il cambio di passo del mondo ma siamo contenti di tutto questo quanto ci mancano quelle chat primordiali come mirk in cui con degli pseudonimi si entrava nelle stanze e si pensava nascosti dietro un nome finto di poter essere qualcun altro una second life una seconda identità ed era quello il bello non era il social di oggi era la produttività era lo scambio dinamico era la possibilità di contattare una quantità di persone in diretta cosa che oggi non fa più nessuno non sono così entusiasmanti le chat di whatsapp oggi così diffuse che è tutto così scontato perché un apparecchio palmare come un cellulare tenuto in mano ci trasmette delle emozioni che non sono più quelle che forse collegando alla mia età all'epoca poco più che 25 anni e neanche ancora padre di un figlio vivevo il mio mondo in una trasformazione e aspettando che il nuovo secolo portasse altre novità ed è questo che vi lascio questa notte come pensiero il valore nonostante tutto di rapporti virtuali intrattenuti il tempi di connessioni lentissime era quello il mondo la notte e l'amore a 56k una buonanotte da trefoletto